Le officine non cuscini nascono nel lontano 1963 dalla passione di mio padre per la meccanica pesante. Già allora cuscinetti, cambi, sincronizzatori, differenziali erano nel suo DNA. Grazie alla sua conoscenza, alla passione di Marco per i fuoristrada e a Martina, una donna ingegnere, abbiamo sintetizzato il tutto e dato vita nel luglio del 2013 al Donkey. Donkey è il soprannome del nostro capomastro che realizza l'impossibile. È veramente la sintesi dell'impossibile realizzato sul veicolo della categoria Piaggio Porter. Ascoltando le richieste dei nostri clienti abbiamo realizzato un veicolo 4x4 disinseribile con le ridotte e sincronizzato. Disinseribile dà la possibilità di utilizzare il 4x4 solo nelle fasi di necessità. Il fatto di essere sincronizzato permette di inserire il 4x4 e le ridotte in movimento. A una velocità massima di 30 km orari si può passare dalle due ruote motrici alle quattro ruote motrici ad un filo di gas. Basta spostare la leva dall'alto e in basso nella posizione 4x4. Avendo mantenuto la stessa altezza del veicolo di nave, Donkey può entrare ovunque. Abbiamo scelto un sistema di inserimento meccanico perché lo riteniamo molto più affidabile. Il Donkey è un veicolo da lavoro, non deve mai fermarsi. Quando vediamo che la salita diventa difficoltosa possiamo inserire le ridotte, semplicemente spostando la leva sulla destra. Adesso siamo voluti. Il differenziale, il transfer, i semiassi, gli ammortizzatori, il joystick sono tutti prodotti in Italia. Questo ci permette di fare team con i nostri fornitori e di garantire le consegne in 15 giorni. Donkey è stato testato in tutti i suoi componenti e assemblaggi prima di essere messi sul mercato e questo ha garantito un prodotto affidabile ed efficiente. Come tutta la produzione cucina è omologato a livello europeo. Questo consente ai nostri clienti di avere la possibilità immediata di targare. Come tutta la produzione cucina. Come tutta la produzione, come tutta la curta. Come tutta la produzione cucina. Come tutta la produzione cucina. Ciao!